Buon pomeriggio a tutti amici, ben trovati. Anche quest'oggi siamo qui con il nostro immancabile Caffè Espresso, il programma di intrattenimento che inizia alle 14 e termina alle 15 ogni giorno qui su LP Network, canale 295. Anche quest'oggi siamo qui per cercare di tenervi buona compagnia, la bella musica, le notizie e gli ospiti perché oggi ci sarà anche un ospite molto particolare, devo dire quindi ecco mi raccomando rimanete qui con noi perché insomma ci saranno degli spunti interessanti. Come al solito si inizia con la bella musica naturalmente. Bene, eccoci ritornati in diretta, come vedete vicino a me un ospite, l'ospite che vi avevo anticipato quest'oggi che ci parlerà di qualcosa di molto interessante, dei percorsi formativi, formativi diciamo, ma poi ce lo spiegherà meglio lei, per quel che riguarda dei laboratori per giovani. Allora intanto benvenuta a Licia Poncato che è responsabile di questi laboratori assieme ad altri che adesso ci dirai e che portano per mano diciamo questi ragazzi diciamo anche giovani talenti se vogliamo, giusto per anticipare un attimo e poi vi spiegheremo perché. Allora intanto Licia benvenuta, io volevo subito chiederti prima di aprire insomma un po' quello che è il tuo interesse su questo argomento, intanto tu, allora Licia fa il suo lavoro e questo lo sappiamo è una cosa a parte, questa è una passione che sta portando avanti, giusto? Da quanto tempo? Secondo me è una cosa genetica, già dalla nascita, anzi ereditata dal nonno. Beh allora è un po' di tempo. Il nonno faceva teatro, era appassionato di teatro e io ho preso questa passione dal nonno. E quindi come ti ha messo sulla buona strada diciamo già da piccola? Cioè ti ha portato a teatro, ti ha insegnato che ne so a recitare, che cosa ha fatto per accendere questo sacro fuoco? Ma è una cosa genetica perché devo dire che io lui non l'ho mai visto recitare. Eh però? Però già da piccola facevo il teatrino con le bambole, facevo recitare, facevo recitare i cuginetti, facevo le interviste, facevo la conduttrice, facevo... Eri già insomma sulla buona strada. Esatto. Eri già sulla buona strada. Allora diciamo che da non moltissimo comunque hai iniziato con questi laboratori di teatro. Ci ne vuoi parlare? Di che cosa si tratta? Ma guarda, i laboratori di teatro sono 30 anni ormai che li faccio. Cioè dire così vuol dire che sono un po' datata anch'io però... No, ma io avevo detto da poco nel senso proprio... È passato un po' di tempo perché ho lavorato con i bimbi, ho lavorato con i genitori, ho lavorato con i giovani, ho lavorato con gli adulti. Mancano solo gli anziani, dopodiché l'età le ho fatte tutte. Si potrebbe fare. Percorsi con persone che si accostavano per la prima volta al teatro e quindi digiuni totalmente della cosa, della materia e che scoprivano insieme, attraverso anche un lavoro di gruppo, delle proprie capacità che poi condividevano. Come si articola questo percorso con queste persone che comunque si approcciano a questa esperienza? Perché alla fine è un'esperienza nuova per molti, magari altri saranno già più abituati, però come si approcciano a queste esperienze? E a volte sono loro che mi chiedono... c'è stato tipo un gruppo giovani che aveva cominciato a fare delle recite e ho detto abbiamo bisogno di un regista, vorremmo approfondire un po' l'argomento e quindi ho detto sono qua. Va bene, sono qua, sono presente. In che cosa consistono queste serate che fate con questi giovani o comunque con le persone che richiedono questo... Allora, la parola laboratorio mi piace molto. Laboratorio è uno spazio in cui si sperimenta, in cui si scoprono cose nuove e quindi scoprono anche cose che non sapevano di avere e di saper fare. È una sfida, è una sfida che accolgono, c'è un atto di fiducia nei miei confronti perché mi seguono lungo il percorso, si fanno dei giochi, si fanno dei... perché fondamentalmente il teatro è gioco ed è divertimento. Quindi questo è lo spirito. Se le citano qualche grande autore, non lo so, sono curiosa, eccolo qua, intanto vediamo, vediamo, ecco, è un altro progetto questo qua. Questo sì, sono i giovani talentosi, questo sì è recente, è partito praticamente con la fine dell'anno scorso e questa è una proposta specifica che è stata fatta ai giovani. Vedi, mentre insomma questo laboratorio di teatro, che qui vedo un volantino ad esempio, che sono appunto dei percorsi teatrali, dove appunto è aperto, è scritto per giovani, donne e uomini. Quindi tutti sono possibili autori di questo laboratorio perché alla fine si propongono loro con le loro... Sì, o sono loro che vengono da me e dicono come i giovani vogliamo fare, oppure sono io che dico, guarda, tu secondo me potresti fare un percorso, tu potresti, tu potresti, accettano la sfida e vengono. Bellissimo il percorso delle donne in cucina, dove quattro signore si sono praticamente messe in gioco e facendo le tagliatelle hanno anche raccontato una storia, abbiamo imbastito una storia. Prima c'è tutto un lavoro di ricerca, per cui si leggono alcuni brani, si riflette su determinate tematiche, si ascoltano anche le riflessioni che loro stesse pongono, le questioni di vita. Si chiacchiera molto in pratica. Esatto, da tutti gli spunti che emergono io poi rielaboro tutto, faccio il testo, glielo propongo, insieme lo esaminiamo, lo assestiamo e poi si parte. Poi c'è la parte più noiosa che è quella di impararlo a memoria. Vabbè ma insomma se si hanno aderito comunque l'idea c'era a questo. Allora diamo un attimo la linea alla regia per una breve pausa e poi ritorneremo qui ancora per parlare di Teatralmente Raccontati. Ritorniamo a noi all'ospite che abbiamo qui quest'oggi a Caffè Espresso, abbiamo Licia Poncato, responsabile di Teatralmente Raccontando, che ci stava appunto raccontando di questi percorsi, di questi laboratori dedicati a quel che ci si racconta in pratica, con questi gruppi dedicati in questo caso ai giovani, alle donne e agli uomini, ci siamo anche dimenticati di dire dove, fra parentesi, dove vengono svolti questi laboratori? Dove troviamo gli spazi, non c'è limite, non c'è limite alla fantasia, non c'è limite a... Agisci comunque in che comuni per questi laboratori? Ho agito in Bolzano Vicentino, Montebello, adesso siamo a Monticello, Monticello Controtto, per San Vido. Ecco, diciamo che in questi comuni insomma tu agisci in questo caso. Allora, so che tu fai anche delle letture animate per i ragazzi delle scuole, in che cosa consiste questo? Delle scuole o delle biblioteche, delle letture e poi a seguire dei laboratori collegati sempre con la tematica della lettura. Sono di solito inseriti dei percorsi che vengono fatti anche a livello nazionale, tipo il Maggio dei Libri o in aprile, ma sempre collegato con una manifestazione collegata con i libri, con la promozione alla lettura. Ai ragazzi, insomma, io so che c'è anche un tuo blog dove tieni aggiornato questi percorsi che fai con i ragazzi delle scuole. Eccolo qua, lo vediamo. Quindi per chi volesse andare a visitare e a leggere insomma quello che... Sì, è come un diario, praticamente ho raccolto un po' tutto il cammino che ho fatto in questi anni, tanti percorsi, tante belle esperienze. E non c'è solo la scuola, le biblioteche, ma proprio c'è tutta, tutta la mia storia è racchiusa. Ecco, i ragazzi come reagiscono di fronte a questo? Perché di solito ormai a scuola si legge in silenzio, non si legge più a voce alta piuttosto che confrontando. Io mi ricordo quando ero piccolina che si leggeva in classe un pezzettino, qualche frase a ciascuno, però tutti un po' leggevano, insomma, danno il senso un po' della lettura. Mentre adesso niente, non si vede più. Come reagiscono i ragazzi di fronte a questo? Beh, adesso era appena scorso il corso che stiamo facendo a Bressanvido. dove c'è un gruppo di genitori che si sta attivando per queste letture, per cui c'è la sensibilità, comincia a muoversi qualcosa anche gli insegnanti. I bambini ovviamente più piccoli sono, più sono rapiti dalla lettura, più ti seguono, più ti guardano presi. Più grandi diventano, secondo ciclo, medie, andando in su, e lì è una sfida. È una sfida praticamente che ti tira fuori il cantastorie, la capacità di catturarli e portarli con te in questi mondi fantastici. Eccolo qua, vediamo appunto il sito di Licia Concatto che appunto vi dà la possibilità anche di capire un po' insomma come si... Sì, perché tanti anni di lavoro, per cui c'è anche tante cose. E vorrei anche dire, vorrei anche dire. Esatto. Allora, oltre a questo, so che ci sei buttata in un altro progetto ancora più mirato. Molto bello, molto bello. È partito alla fine dell'anno scorso. Io e Alessandro Pennasilico, con cui collaboro in questo progetto, abbiamo fatto la proposta alle amministrazioni di Bozzano Vicentino, di Monticello Conteotto, di Bressanvido e di Quinto Vicentino che hanno accolto la proposta. Si tratta di un progetto rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni. Perché questa fascia d'età? Perché è una fascia d'età, abbiamo detto, che di solito viene un po' dimenticata. Ci si occupa di piccoli o degli adulti. Invece anche questa fascia, questi giovani, hanno tante risorse, tante cose belle, tante cose che possono condividere. Ecco perché abbiamo scelto questa fascia d'età. In che cosa consiste questo progetto? Il progetto STEP è stato studiato apposta per coinvolgerli e consisteva in un concorso in cui li invitavamo a produrre degli elaborati. Potevano esprimersi come preferivano, come volevano. Dovevano parlare di come i giovani vivono il proprio talento nella quotidianità. Quindi esprimevano insomma quello che a loro sarebbe piaciuto fare. Quindi non era un talent show, ma dovevano parlare o di se stessi o degli amici o di altri giovani che non conoscevano, ma dovevano documentare come i giovani vivono il proprio talento. Sono arrivati degli elaborati bellissimi e inaspettati, tra l'altro. C'è qualcuno che ti ha incuriosito più di altri, ad esempio, di questi ragazzi? Bella, vincitrice, che al primo posto ci ha spiazzati tutti perché è un'ostetrica, 25 anni, una forza della natura, un entusiasmo. Una che fa nascere la vita, deve per forza essere una forza della natura. Esatto, è bellissima sta ragazza. Ma anche la seconda, clown terapia, con questo naso rosso che va in mezzo alla sofferenza per portare un sorriso. Molto bello anche questo percorso che fanno questi ragazzi. Mattia Traforetti, si è abitita a sposa, già da piccolo lui aveva cominciato con questa passione. Marco Resiglione, che è stato coinvolto nel terzo step, l'attore. È diventato un attore sul serio stavolta. Ha vinto la selezione al piccolo di Milano, siamo molto felici per lui. Hai detto niente. Hai detto niente. Il piccolo di Milano. Ma lui è bravissimo proprio, a tenacia, in persona, a determinazione. Ha detto sì, lo voglio. È anche una dimostrazione quando si vuole con tutta la forza possibile. Esatto, si riesce. E poi abbiamo il pasticcere, Ivan Scortegagna. Anche lui è stato coinvolto nell'ultimo percorso che abbiamo proposto ai giovani. Allora, intanto, prima di passare a farvi vedere qualche video di questi ragazzi, che comunque non possiamo farli vedere tutti nella loro interezza, perché comunque, come ben sapete di tempo, purtroppo in televisione non ce n'è molto, ma c'è la possibilità di vedere qualche piccolo spezzone. Quindi diamo un attimo la linea alla regia e poi ritorneremo per farvi vedere questi giovani talentosi, perché non sono tuosi, tuosi. Ritorniamo a noi, ritorniamo a Caffè Espresso con il talento nell'aria, diciamo, perché si parla di talenti comunque sia, di passioni e di belleità nascoste, oltretutto in questi giovani talentosi. Qui oggi abbiamo Licia Poncato, che ci parla appunto di questo laboratorio dove si scovano queste passioni sopite sicuramente. E si condividono. E si condividono con gli altri, magari ecco sono rimaste lì ferme in parcheggio per non so quanto tempo, poi insieme insomma si chiacchiera, si parla, escono appunto queste passioni. Abbiamo detto che appunto sei in questo progetto con questi giovani ragazzi dai 18 ai 25 anni, che li porti un po' per mano in questa esperienza, giusto? Sì, e poi anche reciproco. Esattamente. Imparo tante cose anch'io. Beh, sono sicura, di questo sono sicura. Allora, questo concorso, questi laboratori, perché il concorso è stato fatto qualche tempo fa. Poi c'è stato un secondo step che riguardava nello specifico, abbiamo rilanciato la proposta relativa al talento scientifico, che tra l'altro era anche uno dei partecipanti. Per cui da qua abbiamo preso lo spunto per i 450 anni dell'anniversario della nascita di Galileo. Abbiamo fatto un percorso specifico per Galileo Galilei, anche rivolto ai ragazzini delle medie, questo su richiesta dei giovani che hanno partecipato. Vedi, vedi, si è calata l'età in pratica. Hanno loro espresso il desiderio di, perché hanno detto è importante parlare ai ragazzi delle medie, perché è da lì che loro scoprono i propri talenti e cominciano ad affacciarsi alla vita, al mondo del... Ma anche il confronto tra, insomma, quelli che stanno entrando nella nuova età. È stato molto bello come percorso. E questo era un laboratorio dedicato appunto alla scienza, diciamo. Esatto, esatto. Quindi non era storia. Avevamo tra noi uno dei ragazzi che aveva partecipato al concorso, Federico, che praticamente ci ha dato delle chicche, delle dritte su questa tematica, che è anche un po' particolare. Come hanno reagito i ragazzi delle medie in questo caso? Entusiasti. Entusiasti. Vedi come. Anche perché un po' si sentono presi per mano da loro coetanei, in effetti qualche anno di differenza, più che da il professore o comunque l'insegnante, che insomma è sempre un po' uno scoglio, diciamo. Anche perché il percorso era impegnativo, perché non era rivolto ai ragazzi delle medie, era per 18-25. Però? L'entusiasmo c'è stato. Però hanno seguito, sono stati proprio bravi. Sì, proprio bravi. Questo è terminato con una lettura teatrale per il maggio dei libri preso da Bertolt Brecht. E anche questo ha avuto un ottimo successo, abbiamo saputo. Esatto. Mentre so che adesso appunto stiamo andando avanti con altri importanti autori. Un altro bellissimo laboratorio abbiamo proposto che è Shakespeare in Love, Mastro pasticcere. E qui io e Alessandro abbiamo coinvolto come docenti i ragazzi che hanno partecipato al concorso. Abbiamo Marco Resilione, Ivan Scortegagna e la Giorgia Zanantonello. Ognuno con le proprie peculiarità e con le proprie competenze. Anzi, sappiamo che Ivan Scortegagna ha una sua competenza del tutto particolare, che adesso la vediamo anche per mestiere. Ivan è un artista. Anche per mestiere, perché prima si parlava appunto di Mastro pasticcere. Che cosa fa Ivan? Allora, lo vediamo qui impastare cosa che sarà utile tra qualche settimana. In questo caso lui è risultato quinto classificato, però in questo concorso che avevate iniziato... Sì, tra l'altro non ho detto che questi percorsi per i giovani sono assolutamente gratuiti. Non è poco, devo dire. Abbiamo avuto degli sponsor e anche per Ascespire abbiamo chiesto contributo ai comuni. Per questo concorso la banca ha dato dei contributi che sono praticamente stati i premi della... Vedi qua, danno anche un senso agli ingredienti. È interessante vedere questo video dove appunto danno anche un senso a quello che stanno facendo. Ha fatto una metafora. Esattamente. È molto bello, devo dire. Quindi il primo premio, il secondo e il terzo sono stati in denaro offerti dalla Banca del Centro Veneto. Bene, complimenti alle banche che ci credono in questi progetti. E anche questa seconda fase abbiamo chiesto dei contributi, un po' per le spese che dobbiamo affrontare e un po' perché ci tenevamo a dare qualcosa nei limiti del possibile a questi ragazzi che hanno fatto questo percorso, a questi docenti. Quanti dolci avete mangiato in quel periodo? Giusto per curiosità. Che buoni. Ho visto anche delle fotografie interessanti. A parte qui vediamo ecco come si crea un panettone e veramente ho detto ci vuole la pazienza di job. Devo fare i complimenti ai pasticceri perché veramente è questione di giorni. Si scopri delle cose, tu vai al supermercato, te prendi, oppure vai in pasticceria, ti prendi il prodotto finale, non hai la più pallida idea del cammino che c'è dietro. Si mangi un buon panettone fatto bene. Il percorso che c'è dietro, che poi è come andare a teatro. Tu vai a teatro, vedi lì un'opera che si consuma in poche ore e tutto il lavoro che c'è dietro di preparazione. Diciamo che è una buona metafora di quello che è insomma il vostro lavoro. Allora io vi ricordo ancora per chi volesse partecipare a questi laboratori di talentosi in questo caso perché insomma c'è anche un sito che magari lo vediamo appunto di questi giovani, eccolo qua, giovani talentosi per chi volesse consultarlo. Questo è il blog, poi c'è anche il sito giovani talentosi.it che poi si entra nel blog e anche su facebook. Vedo anche Romeo e Giulietta. È una delle opere, è una tragedia, che è stata esaminata. Vedi, e poi se non sbaglio ci sono anche delle foto più sotto dove appunto si vedono questi ragazzi, eccoli qua, durante appunto questi incontri. Questi laboratori condotti, questo era condotto da Marco Resiglione, dove ci sono dei riscaldamenti del corpo, acquisizione dello spazio fisico, riscaldamento della voce, proprio per dare sicurezza e scoprire cose che altrimenti dai per scontate. Questi ragazzi quando terminano questo percorso? Quanto dura di solito? I percorsi sono brevi e sono 8-10 incontri. Ecco. Alla fine li invitiamo a condividere con una serata aperta, aperta al pubblico, a chi vuole partecipare. La prossima sarà il 17 dicembre a Monticello Conteotto in Sala Bressan. E li invitiamo a condividere il cammino che abbiamo fatto insieme con il pubblico. Poi volevo chiederti, sono stati momenti di panico, ragazzi tenete duro. Sì perché comunque insomma 8-10 appuntamenti settimanali, uno a settimana diciamo, ecco quindi è anche un impegno per loro, però terminato questo percorso poi tornano, vogliono farne ancora, come prosegue questa esperienza? Beh c'è un po' di attesa e di curiosità per sapere quale sarà la proposta successiva e poi da parte nostra prendiamo spunto da quello che è stato il cammino, tipo dal concorso abbiamo preso spunto, abbiamo detto beh Ivan, la Giorgia e Marco potrebbero aiutarci a condurre il prossimo laboratorio. Quindi rielaboriamo quello che praticamente esce da questi laboratori e ne inventiamo uno nuovo. Allora concludendo, il prossimo appuntamento di questi laboratori c'è già una data per chi volesse iscriversi, venire anche a vedere insomma o per partecipare? Beh siamo in dirittura d'arrivo di Shakespeare in Louvre, quindi mercoledì 17 dicembre mi pare, sì, c'è la serata finale in sala Bressan a Monticello Conteotto alle 20.30. Bene, allora agli amici che volessero, che si sono incuriositi, che volessero partecipare magari, ecco possono venire. Sì, poi se andate su Facebook e cliccate mi piace sulla pagina dei giovani talentosi avete anche modo di essere continuamente aggiornati sulle attività e sulle proposte nuove che arriveranno. I social network servono anche per questo. Esatto, esatto. Allora noi ringraziamo Licea Poncato per essere stata qui con noi e ci ha portato in un'altra dimensione diciamo per quel che riguarda appunto i talenti e le passioni soppite anche soprattutto dai giovani, ma insomma abbiamo visto anche dai meno giovani. La invitiamo nuovamente a ritornare se ci fossero altre novità. Nel frattempo la ringrazio per essere stata qui con noi. Io ringrazio Antonella e tutto lo staff qua. Grazie ancora. Siete veramente meravigliosi. Allora amici io vi ringrazio per essere stati anche per quest'oggi qui con Caffè Espresso. Vi do appuntamento a domani sempre dalle 14 alle 15. Nel frattempo rimanete con noi. A domani, ciao! 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 Grazie a tutti.